Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e naturalmente ci troviamo in compagnia di Gerli, Gerli Store in particolare perché parleremo di vetture d'occasione con me Danilo Goggi ma soprattutto con voi visto che vi presenterà delle splendide occasioni Ciao Danilo Ciao, ciao Rosi, grazie a tutti io ruberei 30 secondi della trasmissione per una cosa doverosissima dopo presentiamo le macchine io vorrei ringraziare tutti gli amici, tutti i clienti che sono venuti a trovarci che hanno seguito la trasmissione e che sono venuti a vedere le vetture hanno potuto constatare di persona la qualità delle nostre vetture e che poi hanno acquistato la macchina ne cito qualcuno Vere Salvatore di Genova che hanno acquistato una 500L il signor Claudio di Milano ha acquistato una splendida X35 nera favolosa Marco di Vicenza ha comprato la Chevrolet Crude sono alcuni Elena di Monza si è accapparata all'ultima Nissan Qashqai purple black il bel colore del mondo il dottor Carlo di Pesaro che ha acquistato la nostra insegna aziendale il signor Giovanni che è diventato matto per la CX5 quella azzurra che ho presentato all'altra trasmissione Rosselle Davide di Milano la X20 ho scoperto che abbiamo degli amici in comune Franco di Monza che ha acquistato per il figlio la Punto quella con 1000 km contento come una Pasqua potrei andare avanti un'ora ma fa niente andiamo avanti con la presentazione delle macchine magari citeremo qualcun altro nelle prossime trasmissioni perché mi sembra una cosa veramente molto bella ci tengo insomma dai io li ringrazio sono venuti e ne ho comprato anche perché comunque questo vuol dire che c'è un'accoglienza particolare che diventate degli amici praticamente Sì, 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 è vero, è vero, c'è un buon rapporto Un buon rapporto, questo è molto importante ed ora proseguiamo e cerchiamo di trovare altri nomi da nominare la prossima settimana, va bene? Ok È un'auto pari al nuovo è una splendida Smart la City Car per eccellenza è una 1000 di cilindrata benzina del 2011 pensate che ha percorso soltanto 15.500 km è praticamente nuova col tetto panoramico Mario dopo riprendilo che è molto carino climatizzatore autoradio cerchi in lega servo sterzo bellissima il prezzo di questa vettura è di 6.900 euro una splendida Fiat Panda è la 1200 Lounge del primo trimestre 2015 un'ottima City Car 5 posti con climatizzatore radio servo sterzo ABS airbag ESP le vetture hanno percorso circa 20.000 km dico le vetture perché ne ho ancora due o tre mi sembra una bianca e due argento il prezzo di questa vettura è di 8.214 è una splendida vettura per la famiglia spaziosissima ma di dimensioni contenute è una Golf Variant è un 1.2 benzina 105 cavalli l'anno è il 2010 e ha percorso soltanto 70.000 km anche in questo caso si parla di vetture accessoriate clima radio servo sterzo ABS airbag ESP il prezzo di questa vettura è di 8.550 euro una splendida berlina è molto elegante è una Peugeot 508 è un MLSI turbodiesel da 112 cavalli del 2013 95.000 km bellissima accessoriatissima climatizzatore auto radio cruise control fendinebbia servo sterzo la vettura è in condizioni splendide e il prezzo è di 11.900 euro appena ritirata è una bellissima Mercedes classe B versione Executive 200 è un 2.000 turbodiesel 140 cavalli è del maggio 2010 colore bronzo bellissimo e ha percorso soltanto 47.000 km si parla ovviamente di una vettura molto accessoriata climatizzatore auto radio cerchi in lega sensori di parcheggio vetri elettrici servo sterzo e chiusura centralizzata in condizioni eccellenti e il prezzo di questa vettura è di 11.900 euro vi presento due vetture a chilometri zero il nostro marchio la Hyundai la prima è la Hyundai i20 1.2 nella versione comfort 5 porte accessoriata cerchi in lega fendinebbia auto radio climatizzatore servo sterzo e le dotazioni di sicurezza come l'ABS l'airbag tutti gli airbag e l'SP e i sensori di parcheggio appena immatricolata di colore argento il prezzo è di 12.132 sempre chilometri zero è l'Ai10 la versione login vendutissima accessoriatissima radio col bluetooth climatizzatore servo sterzo fendinebbia tutte le dotazioni di sicurezza i quattro vetri elettrici e la chiusura centralizzata autovetture immatricolate fine maggio 2016 chilometri zero l'ho già detto colore argento e colore nera in questo caso se avete una vettura da rottamare il prezzo della macchina è di 9.632 un'altra splendida a sette posti è una Nissan Qashqai la Qashqai più 2 vuol dire sette posti è un 1.6 turbo diesel 131 cavalli immatricolata a dicembre del 2011 in condizioni eccellenti la vettura ha percorso poco più di 90.000 km è molto accessoriata cerchi in lega fendinebbia climatizzatore autoradio vetri elettrici servosterzo e chiusura centralizzata veramente bellissima il prezzo di questa vettura è di 12.400 euro una monovolume compatta ideale per la famiglia per la città ma anche per fare un viaggio è molto spaziosa molto bella è una Kia Venga 1.400 benzina versione easy la vettura è del 2010 molto accessoriata cerchi in lega fendinebbia climatizzatore autoradio sensori di parcheggio ha percorso soltanto 60.000 km il prezzo di questa macchina è di 8.800 euro sempre a proposito di Kia Venga ne ho un'altra precisa identica però è del 2014 ed è un 1.600 turbodiesel 128 cavalli stesso colore stessi accessori ne vediamo una le vediamo tutte e due il prezzo della versione turbodiesel è di 12.650 euro ultime due 500 L versione living lounge sette posti per la famiglia numerosa va benissimo primo trimestre 2015 è un 1.600 turbodiesel da 105 cavalli il chilometraggio è di circa 15.000 km praticamente accessoriata di tutto cerchi in lega fendinebbia climatizzatore automatico bizzona vetri elettrici chiusura centralizzata ABS airbag ESP splendida il prezzo è di 15.609 quando parlo di X35 sono contento come una Pasqua è uno dei cavalli di battaglia del nostro marchio la Hyundai questo modello è una Comfort 1.7 turbodiesel 115 cavalli due ruote motrici la versione Comfort è la versione media con climatizzatore automatico bizzona specchietti ripiegabili elettricamente e riscaldabili sensori di parcheggio interno misto pelle e tessuto cerchi in lega fendinebbia insomma bene o male ha su quasi tutto la vettura del 2014 colore argento ha percorso soltanto 26.500 km e il prezzo è di 18.100 euro ne ho un'altra appena arrivata non ve la presento perché è un pochino sporchina è nera stesso anno ha fatto qualche chilometro in più mi sembra vado a memoria circa 45.000 stesso allestimento bellissima il prezzo è di 17.900 euro di colore bianco di colore argento e di colore nero sono le ultime tre mocca aziendali vetture del primo trimestre 2015 1.700 turbodiesel 130 cavalli la versione è la Ego ma ha gli stessi accessori della Cosmo vetri elettrici chiuso a centralizzata cerchi in lega fendinebbia sensori di parcheggio anteriori e posteriori il climatizzatore automatico bizzona gli specchietti sono ripiegabili elettricamente e in più ha il navigatore con la retrocamera le vetture hanno percorso poco più o poco meno 25.000 chilometri Mario riprendile perché sono vetture seminuove il prezzo di queste vetture 19.122 e dopo la mocca un altro SUV della Opel è la famosissima Antara questa è una versione Cosmo è un 2.2 turbodiesel 163 cavalli 4 ruote motrici la versione Cosmo è la versione più accessoriata della gamma Opel climatizzatore automatico interno misto pelle e tessuto sensori di parcheggio cerchi in lega fendinebbia autoradio col cd è bellissima la vettura ha percorso solo 106.000 chilometri ed è tenuta veramente in condizioni splendide il prezzo di questa vettura è di 11.950 euro un bellissimo colore è il bianco perlato è una Nissan Qashqai 1.5 turbo diesel 110 cavalli è una vettura aziendale ne ho ancora due le ultime due sono tutte del primo trimestre 2015 e hanno percorso circa 15.000 chilometri la versione è la 100 una versione molto accessoriata climatizzatore automatico radio col cd mp3 e bluetooth cerchi in lega fendinebbia per la sicurezza ABS airbag ESP il prezzo e anche i sensori di parcheggio importantissimi anteriore e posteriori e il prezzo è di 19.840 euro bene siamo giunti al termine di questo interessante appuntamento avete visto offerte veramente molto interessanti se vi fosse sfuggito qualcosa e volete rivedere per intero la trasmissione potete andare su autodelgiorno.tv andare sulla pagina del magazine dedicata a Gerli e andare a cliccare per andare a rivederlo oppure andate anche su situto su motori tv le scaricate l'app che è gratuita insomma davvero avete molti mezzi per rivedere queste vetture a te Danilo Rosi abbiamo parlato tanto di vetture io vorrei però spezzare una lancia a favore della sicurezza stradale siamo in estate ci sono i weekend il grande esodo il grande rientro siamo tutti in giro per le strade non roviniamoci il viaggio non roviniamoci la vacanza per un attimo di distrazione mio figlio Fabrizio ha vissuto in Australia in Canada lì la sicurezza stradale è una priorità ok mi sembra giusto telefoniamo in macchina usiamo il bluetooth usiamo l'altoparlante e come dice il mio amico Nico cinture sempre allacciate luce accese anche di giorno e soprattutto prudenza 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 benissimo concordo con te è fondamentale la prima cosa che faccio è allacciare naturalmente la cintura quando salgo in macchina e anche col telefono cerco sempre di mettere il viva voce il telefono il telefono fa parte della nostra vita usiamolo bene usiamolo bene assolutamente sono d'accordo con te quindi seguite questi consigli e naturalmente venite a conoscere Danilo Goggi perché è una persona che vale veramente la pena di conoscere ti ringrazio ti ringrazio ciao a tutti e ciao a tutti da Danilo Goggi alla prossima ciao a tutti